Salve a tutti amici faccio questo video per mettervi in guardia sull'ultima truffa phishing da antipedofilia01chiocciolagmail.com se sono fatti un account e hanno messo 01 potrebbe arrivarvi in cc e comunque c'è scritto come oggetto accusa per te numero e un numero un articolo strano ministero dell'interno perfetto convocazione in giustizia per le esigenze di un'inchiesta giudiziaria quindi la convocazione in giustizia viene fatta tramite un'email classica sono il signor Teo Luzzi generale di corpo d'armata comandante generale dei carabinieri e responsabile della cooperazione bla 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 questo Teo Luzzi esiste veramente ed è veramente il generale ma non è lui a inviare l'email non è che ha fatto un'email e poi l'ha inviata a tutti quelli che devono essere convocati dopo un sequestro informatico di cyberinfiltrazione in collaborazione con il centro nazionale per l'analisi delle immagini di siti pornografici pedopornografici bla 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 e cyberpa nella Repubblica Francese nonché il servizio di analisi bla 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 l'ha contatto per informarla che è oggetto di numerosi procedimenti legali in vigore in particolare in materia di pedopornografia siti pornografici quindi da oggi è vietato anche il sito classico pornografico quindi questo è per togliere ogni dubbio se voi non fate niente di tutto questo ma state guardando qualcosa su un sito pornografico allora siete oggetto di numerosi procedimenti legali in vigore che vi vengono recapitati non via raccomandata ma tramite email normale intanto guardate anche questo sfondo bellissimo pixelato della bandiera dell'Italia siete pregati di far sentire la vostra voce via mail scrivendoci le vostre giustificazioni affinché possano essere approfondite e verificate al fine di valutare le sanzioni ovvero non è colpa mia in realtà è stato mio cugino che mi ha mandato quello e allora tramite le mail loro ti dicono vabbè dai facciamogli lo sconto questo entro un rigoroso periodo di 72 ore perché la magistratura agisce così mi vanda un email e entro 72 ore ti devi muovere e mandare tutto se sei fuori affari tuoi trascorso tale termine saremo obbligati ad inviare la nostra relazione all'ufficio del pubblico ministero proposta al tuo caso al fine di stabilire un mandato di cattura nei tuoi confronti cioè se ci paghi dentro a nero allora non mandiamo la roba all'ufficio del pubblico ministero se no gliela mandiamo ok quindi sembra quasi una cosa mafiosa no? cioè se tu ci mandi la spiegazione forse noi non mandiamo la nostra relazione all'ufficio del pubblico e non ti mandiamo qualcuno a casa a prenderti sarei quindi elencato come molestatore sessuale alla fine di questa procedura è fantastica questa mail però tante persone si spaventano è per questo che volevo fare questa email cioè scusate questo video per tranquillizzarvi non agisce così la magistratura o la sicurezza italiana non esiste che vi mandano un'email per una tamarrata del genere poi con la bandiera il tuo file verrà anche inviato ai media per la distribuzione al pubblico cioè fanno anche un servizio in più lo mandano in rete tv quindi il vostro nome e cognome diventerà famoso perché lui andava sui siti pornografici in generale al fine di impedirti di recidiva al fine di impedirti di recidiva ok e anche di scoraggiare altri candidati per questa pratica sei stato tu lo sfigato che ha ricevuto questa mail tu e tutti gli altri però tu ok ora sei avvisato questo è il saluto più formale che i carabinieri potrebbero fare ora sei avvisato generale Teoluzzi generale di corpo d'armata comandante generale io spero che il signor Teoluzzi abbia asporto denuncia che comunque insomma queste cose vengano analizzate da chi di dovere perché insomma si stanno spacciando per lui e stanno scrivendo una roba allucinante c'è un allegato io non lo aprirei ecco e non rispondete assolutamente a queste email cestinate vi assicuro che non agiscono così l'email normale non ha nessun tipo di valore legale e non vi minacciano via email non vi dicono se non rispondi a questa email allora facciamo partire la procedura la polizia non agisce così ma posso capire che qualcuno abbia cercato su google il signor Teoluzzi abbia trovato un riscontro e quindi abbia avuto paura più che altro per questo per i siti siti pornografici che tutti visitano normale perché include tutto questo e quindi cioè chi è che non guarda questi siti e quindi non vi preoccupate cestinate le mail non rispondete assolutamente non so cosa succederà se rispondete ma probabilmente potrebbero chiedervi qualcosa per pagare una somma o virus vari quindi ragazzi state veramente attenti al phishing un saluto che è un saluto che è un saluto che è un saluto